Salve, sono Gigi Barbos, vi voglio augurare un buon Natale a tutti voi, anche se non è un periodo per la quale spero che tutto questo finita presto, così ritorneremo tutti ad abbracciarci e a sentirci più uniti e più forti di prima. Vi auguro veramente un sincero augurio di buon Natale a Gigi Barbosa.